Un strato di encoder potrebbe causare un misalignamento come questo. La strata di encoder, o la strata di timing, è questa strata di plastica fina, locata dentro del impianto. Il proposto è di aiutare il impianto a determinare dove il impianto è locato. Se guardate con la lenza, potete vedere che la strata di encoder contiene centenze di linee nero, nero, nero. Un sensore ottico, sul palazzo della cartella, riede le linee nero e aggiunga la velocità e la posizione del impianto durante la operazione di impianto. Dopo il tempo, la strata di encoder può diventare sbagliato e coperto con inco, affettando la performance del impianto. Se la strata di encoder è sbagliato, il impianto potrebbe non essere capito ad capire la posizione del impianto. Questo può causare problemi di impianto e impianti corretti, misalignamento e carattere distorsi. Un strata di encoder potrebbe causare l'oltre delle cartelle di sbagliare a una parte quando il impianto è spaventato. La strata di encoder, normalmente, su una parte, ha una strata che applica tensione alla strata e è attaccata dall'altra parte al frattempo di impianto. La strata di encoder può essere sbagliata con un caldo sbagliato e alcol o acqua. L'acqua è migliore di ridurre l'inca mentre l'alcol ridurrà la griglia. non usate chimiche pesanti, potrebbero ammazzare le linee del strato. Cuocamente inspeccate il strato di timo per la griglia e il dirt. Anche una piccola quantità di griglia può imparare la qualità di impianto. Nota che se il strato è strato, il sensore potrebbe essere strato. Per pulire il sensore devi disassemblare il impianto. Quindi, prima di tutto, provate a pulire il strato.